Il concetto che devono secondo me cambiare anche tanti approcci di strategie, metodologie educative all'interno dei contesti scolastici, ci sono delle perle, nel senso di perle educative parlo, quindi di scuole fatte in un certo modo e via discorrendo, perché non si può generalizzare assolutamente. Però, secondo me, il sistema scolastico italiano dovrebbe rivedere alcuni aspetti, alcuni punti. Ora, pensa un attimino, ci saranno un sacco di assunzioni con il problema della pandemia e via discorrendo. Allora, oltre alle competenze di un insegnante nell'ambito scolastico, perché provati a immaginare, c'è quello che accetta subito perché è un posto, diciamo, pubblico, no? C'è quello che magari si sente stanco di insegnare, c'è quello che basta un poco di rumore, magari può anche schizzare, c'è quello che tu lo vedi quando va ad insegnare ed è proprio quasi annoiato, non ti trasmette quella passione, quell'amore per la materia. Perché questo? Spesso tu senti dire a scuola, suo figlio è un ragazzo intelligente, però correrebbe un pochino di volontà in più. Ok, ma la volontà da che cosa deriva? La volontà non è altro che quell'interesse mosso per quell'argomento. E l'interesse, chi te lo deve smuovere? L'interesse, perché si dice che una lezione deve partire dall'interesse del minore? Te lo deve trasmettere la persona che hai di fronte, quindi l'adulto di riferimento, l'insegnante, no? Oppure a monte comunque anche i genitori, ovvio i genitori, nei casi genitori non riguardanti la materia in sé, ma il piacere dell'apprendimento, il piacere della scoperta, il piacere a questo punto se vogliamo dell'evoluzione e della crescita. Comunque ricordiamoci che nel momento in cui il bambino inizia ad andare a scuola, ha già passato a volte anche un po' di anni all'interno di un'altra comunità educante che è la famiglia, appunto. Quindi è un po' come se, tra virgolette, agli insegnanti arrivasse un pacchetto, mettiamola così, ecco, che in qualche modo ha già dei suoi connotati. Poi ovvio sono ancora in fieri, sono ancora work in progress, ci mancherebbe, però diciamo che comunque una sorta di imprinting al bambino è stato già dato. Sì, perché in tutti i miei progetti un elemento fondamentale è la condivisione strategica che sono contenuti con la famiglia. Perché questo? Perché quel classico patto di corresponsabilità non sia soltanto sulla carta a livello educativo o per la condivisione delle regole, ma sia soprattutto anche nel concordare in cosa sia meglio fare per aiutare ogni singolo alunno a dare il meglio.